Se sei una donna e stai cercando di costruire un rapporto serio con un uomo e incontri delle difficoltà perché vedi che lui non si apre del tutto con te, non ti parla di cose più intime, non ti mostra quel lato più vulnerabile e quindi non riesci a stabilire una connessione più profonda con lui, allora credo che beneficerai molto di questo video e di tutte le informazioni che ti darò. Rimani fino alla fine, prendi qualche appunto per ottenere il massimo supporto. Probabilmente la maggior parte delle donne, se ha avuto qualche occasione di conoscere il fantastico mondo maschile, sa che gli uomini, non tutti, sto generalizzando, però diciamo tanti uomini hanno delle difficoltà quando si tratta di comunicare, soprattutto quando la comunicazione verte intorno ai sentimenti, alle emozioni, diciamo al mondo interiore, anche perché prima ancora di comunicare la sfida che incontrano tanti uomini è quella proprio di conoscere, di scoprire che cosa hanno dentro, di interrogarsi anche rispetto ai propri sentimenti, a quello che desiderano, ai propri bisogni. Quindi molti faticano tante volte a dare voce a quello che hanno dentro perché prima di tutto non sanno bene che cosa hanno dentro e questo aspetto crea sicuramente delle difficoltà nel rapporto sentimentale. Io ho avuto diversi clienti in delle relazioni o in semplici frequentazioni che erano un po' frustrate ma anche un po' stanche di dover interpretare i bisogni, i sentimenti dell'uomo che avevano accanto. Tantissime donne entrano nella relazione proprio con questa voglia di dare, di soddisfare i bisogni del loro partner, parte della loro felicità è proprio sapere di che cosa lui ha bisogno e poi riuscire a dare, lo riuscire a soddisfare questo bisogno. Quindi oltre ad essere una situazione che poi alla lunga diventa frustrante, diventa faticosa per le donne, c'è anche da dire che all'inizio di un rapporto, all'inizio di una conoscenza è un aspetto che in realtà non permette proprio quella connessione profonda che ci può essere tra due partner. Se io non ho accesso a una parte importante del tuo mondo interiore, delle tue esperienze e viceversa è molto difficile creare quel legame forte, solido che poi ci permette di continuare a rendere la relazione appagante nel corso del tempo. Rimarremo sempre a uno strato, non dico superficiale, ma a un livello che è accessibile quasi a tutti, mentre invece quando tu sei in un rapporto con un partner, questa persona va a conoscere dei lati, degli aspetti di te, va a scoprire quelle cose più intime anche di te che tu difficilmente fai vedere ad altre persone e che effettivamente servono anche proprio per creare questa connessione così intima. Prima di tutto con questo video voglio aiutarti a eliminare un po' della frustrazione che potresti avere se ti stai chiedendo perché lui non si apre con me, perché non mi parla delle cose più intime o in generale, perché gli uomini faticano un po' a aprirsi nella relazione, ti darò delle motivazioni che possono rispondere a queste domande. E poi voglio aiutarti a capire come creare quella relazione forte, appagante, intima che stai cercando, andando appunto a comprendere meglio gli uomini e soprattutto l'uomo che hai o avrai accanto nella conoscenza. Brevemente, se questa è la prima volta che vedi un mio video, voglio presentarmi e darti il benvenuto. Ciao, io mi chiamo Federica e potreste aver capito che lavoro con uomini e donne attraverso consulenze individuali e corsi per aiutarli nel raggiungimento dei loro obiettivi sentimentali. Ho dei clienti che si sono rivolti a me per superare le insicurezze, per superare la timidezza, per superare le esperienze passate più deludenti. Ho clienti che vogliono superare una particolare rottura che li ha un po' paralizzati in amore, diciamo così. Dei clienti che vogliono capire come costruire una relazione sana, altri che vogliono capire come rapportarsi meglio all'altro sesso e soprattutto come comunicare meglio, che è anche il tema di questo video. E clienti che in generale si rivolgono a me per raggiungere un po' questi obiettivi che ruotano intorno alla sfera sentimentale e anche al benessere personale. Quindi se anche tu hai esigenza di trattare un po' questi temi, di affidarti a una persona per capire come migliorare la tua vita sentimentale e come ottenere quello che desideri, allora trovi tutti i link della mia attività in descrizione. Rispondiamo a questa domanda. Perché lui non si apre con te? La prima motivazione è questa. È probabile che lui in passato, in una relazione precedente, magari si sia aperto anche con una donna, le abbia raccontato dei particolari molto intimi che magari non ha mai raccontato a nessuno e lei ha usato queste informazioni contro di lui, le ha usate per ferirlo. Magari c'è stata una lite, una discussione, lei ha tirato fuori queste cose con l'intento di ferirlo, farlo sentire insicuro, inadeguato, farlo sentire in colpa o semplicemente debole. Magari tu in questo momento stai pensando che cosa molto brutta, molto negativa, a me non salterebbe mai in mente di fare così se una persona mi confidasse delle cose molto intime. In realtà io ti dico, ho avuto diversi clienti uomini che mi hanno raccontato proprio di queste esperienze, che li avevano delusi molto e li avevano fatto mettere un po' un bel lucchetto al loro mondo interiore, un po' più profondo, un po' più intimo e anche se vogliamo magari anche un po' più sfidante da raccontare. Proprio nelle ultime settimane un mio cliente mi ha parlato di questa sua ex, l'unica donna con la quale aveva mai parlato di un evento, un'esperienza che lui aveva avuto in età adolescenziale, una donna con la quale lui si sentiva molto in sintonia e che proprio non ha avuto cura di questo suo dolore e anzi gliel'ha tirato fuori in diverse occasioni per farlo sentire un po' sbagliato, per criticarlo e fargli capire che se non riusciva a creare dei rapporti era un po' per questo motivo, per queste cose un po' del suo passato. È un po' come quando una persona ti fa un favore, una gentilezza e tu sei tutto contento perché dici che bello poter fare affidamento su una persona, è mia alleata, è dalla mia parte e poi improvvisamente questa persona gioca questa carta, te lo tira fuori per ricordarti che tu hai un debito, che sei in debito. Quanta sarà poi la tua voglia di fare di nuovo affidamento su questa persona o magari su altre persone? Chiedere un favore, appoggiarti a qualcuno pari a zero probabilmente, anzi penseresti se avessi saputo che mi avresti fatto sentire in colpa per questa cosa non te l'avrei mai chiesto. Lo stesso discorso si applica al fatto di aprirsi emotivamente, se lui in passato si è aperto magari anche con delle difficoltà e si è trovato davanti un muro o una persona che non ha avuto cura del suo dolore o una persona che anzi ha usato questo dolore contro di lui, adesso avrà molte difficoltà a aprirsi nuovamente, anche se tu sei una persona assolutamente meritevole di fiducia fiducia e magari stai dicendo si capisco tutto ma perché devo pagare io per delle cose che ha fatto un'altra persona ed è comprensibile, può essere una situazione un po' fastidiosa però c'è anche da dire che tutti noi ci portiamo un po' dietro i bagagli emotivi derivanti da esperienze passate e anche se spetta a noi fare il lavoro necessario per sciogliere questi bagagli, quindi spetta all'uomo che è accanto ritrovare la fiducia, la forza per aprirsi nuovamente, mostrarsi vulnerabile, anche tu hai un grande potere di incoraggiare questa fiducia, di aiutarlo in questo lavoro, che non significa che tu debba andare all'estremo per far sì che lui si fidi di te o che tu debba essere eccessivamente accomodante, eccessivamente paziente per non pressarlo su certi temi e ne parlo profonditamente nel mio corso proprio dedicato alla comunicazione con gli uomini, al miglior approccio da avere con il mondo maschile, il corso chiamato come parlare agli uomini e perché ne parlo? Perché il rischio in cui poi cadono tante donne, in cui sono cadute anche alcune delle mie clienti è proprio quello di sentire poi la pressione di dover fare di tutto per dimostrare la loro affidabilità all'uomo che avevano accanto, a un uomo che era molto ferito, che tirava fuori appunto il suo passato, che aveva questi blocchi e queste sensazioni negative a causa di quello che era successo nel passato e che quindi in un certo senso esigeva un po' che la donna che aveva a fianco facesse di tutto per dimostrare un po' questa fiducia, questa affidabilità e per tante poi questo diventa un lavoro, un lavoro sfiancante in cui devono rinunciare ai loro bisogni, in cui non si sentono completamente libere e sentono anche di dover rendere conto a questa persona, di dover camminare anche un po' in punta di piedi perché non sia mai che lui si spaventi nuovamente e si richiuda completamente in se stesso. È un attimo passare da rispettare le ferite di una persona a rinunciare a se stessi per non scomodare l'altro, mettergli pressione o allontanarlo. La seconda ragione che spinge tanti uomini ad essere un po' più chiusi riguardo quello che gli succede nella mente a livello emotivo è il fatto di non voler preoccupare o appesantire la donna che hanno accanto. Anni fa ho avuto in consulenza un ragazzo molto giovane, molto maturo, pronto a iniziare un rapporto stabile e pronto a essere anche quell'uomo forte che tante donne cercano. Il suo problema era proprio questo, il fatto che lui fosse a quell'estremo che non è comunque sano per la coppia, quello in cui non vuoi parlare di certi aspetti del tuo passato, comunque anche della tua quotidianità magari un po' più complessi o che riguardano un po' le preoccupazioni, lo stress che ci può essere con la ragazza che aveva a fianco. Lui me lo diceva, voleva essere forte, voleva essere quel porto sicuro per lei, non voleva che lei avesse preoccupazioni, che vivesse la relazione in modo sereno e il risultato era che lei sentiva che mancava qualcosa, che non c'era quella connessione, sentiva di non conoscerlo fino in fondo. Agli uomini hanno sempre insegnato a mostrarsi forti, a tacere un po' i sentimenti più negativi, anzi a non andarli neanche a indagare tantissime volte e anche se i ruoli stanno un po' invertendo, certe dinamiche si stanno stravolgendo nel rapporto uomo-donna, cosa che non vedo proprio come positiva sotto certi punti di vista, però questo è un altro discorso, tantissimi uomini faticano ancora a mostrarsi vulnerabili, a far cadere un po' con la maschera di uomo forte che ha tutto sotto controllo e a mostrare le proprie vulnerabilità alla donna che hanno accanto. Personalmente credo che questo aspetto anche se crea delle difficoltà e dei frantendimenti anche pesanti nella coppia, lo abbiamo visto nel caso del mio cliente, poi la sua relazione è finita proprio per queste ragioni, segnali comunque che hai accanto una persona, un uomo sicuro e soprattutto che vuole proteggere la propria compagna e credo anche che questo aspetto sia molto più gestibile, si possa lavorare meglio su questo rispetto al suo estremo opposto, ovvero l'atteggiamento di chi invece ti sbrodola addosso tutte le sue insoddisfazioni, tutte le sue mancanze, le sue frustrazioni anche derivanti dal passato senza limite e senza avere cura anche un po' del tuo benessere. Perché? Perché il primo atteggiamento parte comunque da una base altruistica, cioè io mi chiudo perché non voglio che tu soffra, non voglio che tu stia male, non voglio che tu senta anche la responsabilità di gestire qualcosa che spetta a me gestire. Il secondo atteggiamento ha una base invece un po' più egoistica, cioè aiutami, salvami o guarda che i miei problemi sono anche i tuoi o meglio devi essere tu a far qualcosa per rendermi felice, per aiutarmi a superare queste cose. Detto questo, anche se è preferibile avere accanto un uomo che si comporta in questo modo rispetto a uno che ti scarica un po' addosso tutte le sue insoddisfazioni, come ho detto è un aspetto comunque da gestire perché crea dei problemi nella coppia. Ci sono gli uomini quindi che vogliono proteggere la persona che hanno accanto e ci sono altri uomini che vogliono proteggere se stessi e questa è la terza ragione che spiega perché svariati uomini non parlino, non si aprano. Alcuni uomini non hanno il coraggio di mostrarsi realmente per quello che sono o non hanno il coraggio di parlarti di cose che loro stessi vedono come debolezze, dei punti un po' scuri, cose di cui non vanno proprio fieri, hanno magari paura di allontanarti o hanno paura che tu possa cambiare opinione su di loro. Tanti uomini traggono veramente gratificazione, piacere, orgoglio dal sapere che la donna che hanno accanto ha un'alta opinione di loro, ha una buonissima immagine di loro e quindi per nessun motivo vogliono rovinare questa immagine. Ancora più delle donne si preoccupano del giudizio che ha la loro partner e infatti noi solitamente siamo un po' più brave anche a lasciarci andare, a far vedere il nostro mondo interiore, anche gli aspetti un po' meno lucenti, ovviamente ci sono le eccezioni e ci sono poi le difficoltà che una persona può avere anche a causa un po' del suo passato, però tendenzialmente le donne si abbandonano un poco di più, si lasciano andare un poco di più e non sono così preoccupate del giudizio che il loro uomo può avere di loro. Gli uomini sentono anche molto di più la competizione, quindi c'è la paura che tu possa scegliere un uomo migliore. Voglio specificare che queste motivazioni non sono delle giustificazioni, nel senso che anche se tu stai dicendo ok vedi non mi parla perché vuole proteggermi o non mi parla perché vuole proteggere se stesso, diciamo che questa è un po' più negativa come motivazione, anche perché io ho sentito i racconti di diverse donne che hanno magari scoperto gli scheletri nell'armadio del marito, del compagno dopo anni di relazione e in diversi casi è anche proprio scoppiata la coppia, quindi diciamo che questo secondo aspetto è un po' più critico rispetto al fatto che lui non ti parli per proteggerti, come ho detto è un po' più gestibile questa situazione. Ma a prescindere dal livello di gravità per così dire queste motivazioni non lo vogliono giustificare, se c'è un problema perché tu fatichi a stabilire una connessione un po' più profonda, più intima con lui perché lui non si apre, allora in qualsiasi caso è giusto affrontare queste problematiche e cercare di scioglierle. Un altro motivo che potrebbe spiegare perché lui non si apre con te ti riguarda un po' più direttamente ed è la paura della tua reazione. Potrebbe esserci stata un'occasione o più occasioni in cui lui magari ha provato ad aprirsi con te, ti ha raccontato qualcosa riguardo al suo passato, riguardo alla sua ex, alle sue relazioni precedenti o magari ha mosso anche una critica nei tuoi confronti, ha fatto un commento e tu non l'hai presa bene. Magari avete litigato, ti sei offesa, l'hai giudicato, l'hai fatto sentire in colpa per qualcosa che ti ha raccontato e che ha fatto e lui adesso pensa meglio che io non tocchi questi argomenti con lei perché se no andiamo a litigare. Se un uomo ha la sensazione che andando a parlare, che già è un'attività che per molti è faticosa, riceverà più svantaggi che benefici perché si porterà a casa una rottura, ovvero il fatto che tu lo criticherai, che ti arrabbierai, che discuterete, che si incendieranno un po' gli animi, che avrete il malumore, allora sceglierà sempre di tacere. Magari potrebbe esitare inizialmente, dice è successo una volta, ci riprovo una seconda, ci riprovo anche una terza volta e poi shutdown, si chiude e non ti parla più di certe cose perché sa che poi non avrai una reazione proprio positiva. Se tu sei sensibile, sei poco abituata a ricevere certi feedback o magari ti arrabbi, ti dà fastidio quando lui racconta delle cose che sono successe in passato, delle cose che ha fatto con un'altra donna o magari delle cose anche un po' effettivamente sgradevoli che lui ti ha raccontato di se stesso, allora lui sarà portato a dire è meglio per noi, per la coppia e anche per me, non parlare di questi aspetti. Starà a te poi lì decidere se e come spostare i tuoi limiti in modo che lui si senta completamente libero di essere se stesso in questa relazione. Le domande che ti devi porre arrivati a questo punto sono riconosco tra queste motivazioni quella o quelle che potrebbero spiegare le mie difficoltà nel rapporto con lui. In passato ho avuto le stesse difficoltà o sfide molto simili che mi hanno impedito di creare un rapporto sereno, un legame solido. In generale ho un po' di difficoltà a capire gli uomini o a farmi capire dagli uomini e quindi in un modo nell'altro finisco in relazioni dove i bisogni magari reciproci non sono soddisfatti. Se dopo aver risposto a queste domande ti renderai conto di avere delle difficoltà nel tuo rapporto con gli uomini o con l'uomo che è accanto in questo momento, allora prendi l'occasione per scoprire il mio corso come parlare agli uomini. Lì non solo affrontiamo tutte le cose, gli argomenti di cui ho parlato in questo video e quindi ti spiegherò anche come incoraggiare un uomo a parlare, a mostrarsi vulnerabile con te, ma affrontiamo anche tanti altri aspetti che sono fondamentali da gestire e da sciogliere per avere una relazione di successo. Ti aiuterò ad avere una comunicazione un po' più lineare, un po' più facile con il mondo maschile in modo che i tuoi bisogni siano soddisfatti e in modo che anche tu riesca a capire l'altra persona e a lasciarle anche quello spazio di essere se stessa e di essere appagata nella coppia. Link al corso come sempre in descrizione.